Ciao guys, sto per partire per un weekend qua vicino, sul lago di Como, questo è il mio makeup super glowy, super natural, e vi faccio vedere un po' il mio look. Quando parto per un viaggio vicino, utilizzo di solito questo sweet case, la valigia di Bjorn, ho abbinato anche la tutta, anche se è di un diverso colore, ma mi piace tantissimo, e tutto è di Defam, adesso si pronuncia così, c'è il maioncino con il top e i pantaloni di vinile. Com'è? Carino no? Vi faccio vedere una cosa super carina, tutti i miei gioielli della mia collezione sono in questo contenitore, che dove li posso portare in giro. Sbrigata! Quindi ora scegliamo degli orecchini, una luce fantastica, carini no? Ci stanno? Com'è? Com'è? Ho abbinato il mio bellissimo anello di cartiere che mi aveva regalato Fede per un'occasione speciale. Ma non abbiamo finito, servono occhiali da sole. Come sono questi nuovi di Chiara Ferragni? Non sono perfetti per questo look? Ora giacca. Sta bene per il tutto, un po' larga, comoda. Com'è? Home tour della suite. Siamo nella suite Bellini, che è la suite, come ci hanno detto, più grande sul lago del Como, al nuovo hotel Passalacqua. Che spettacolo! solo di Sì, 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 sì. Ciao ragazzi, vi faccio vedere la nostra suite del nuovo hotel Passalacqua sul lago di Como. Questo è il bagno. Pazzesco. Questa è la camera da letto. Questo è il soggiorno della suite. Questo è Federico. Questo è Federico. E questo è l'altro soggiorno. Cioè non è stupenda? Cioè non è stupenda? Digin' a dailythe podcast. Processing. Cioè. Testamento. Cald yeah Cald no 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 no- Grazie a tutti